Mi dia dei giocatori da zuppa, per favore. Preso, suona la tromba, ma non è musica. Che è? Eh, chi lo sa. Allora, posso dedicare questa stamburriata a Carla e Maura? Ma certo, fatto. Ci sono anche oggi, ieri non l'ho fatto, ma oggi non si può non ricordare che Aldo Pili è sempre il sindaco di Sessu. È vero, è vero, persiste, persiste in questa convinzione.